Quando non riesci a spiegarti il perché di alcuni fatti, quando hai bisogno di qualcuno che ti aiuti a risolvere i misteri della vita, Apollonio, specialista in scienze occulte, pranoterapeuta, medium, psicoveggente, paragnosta, Apollonio, con la misteriosa forza della magia risolve ogni problema, lavoro, amore, salute, affari. Apollonio, due occhi nell'imponderabile. Prenotate il vostro appuntamento con Apollonio a Firenze, Siena, Prato, San Giovanni Valdarma. Pagherete solo se soddisfatti del consulto.